Ghivizzano San Giovannese a Forte dei Marmi, domenica alle 14.30 e questa è una certezza. Coppa contro il Matelica il 31 marzo alle 18 al Fedini e questa invece è una speranza, visto che il primo parere della società marchigiana è stato negativo relativamente alla richiesta dello spostamento alle 20.45 in orario serale. Troppo lunga la trasferta da affrontare per tornare a Nottefonda e così, la seconda forza del Girone F, quello comandato dalla San Benedettese, ha imposto il proprio veto allo spostamento, prendendosi invece del tempo per dare eventualmente parere favorevole a giocare appunto alle 18, quando comunque sarà necessario accendere i riflettori. In questo senso la prova offerta dall'impianto di illuminazione nella gara che ha opposto al marzoccolo Scandici fa pensare ad una sostituzione forzata di almeno 8 punti luce non funzionanti globalmente anche a seguito della prima visita dell'ufficio tecnico comunale. Tutto questo a mente fredda rispetto al pareggio interno, secondo consecutivo sempre per 1-1 e ancora con la rimonta subita nel secondo tempo dopo aver trovato il vantaggio. Un tema su un quale occorre fare qualche riflessione, anche se un calo di tensione inevitabile a più 4 dagli eventuali play-out, ma con altre 3 lunghezze di vantaggio su Massese e Sansepolcro che a 24 punti di fatto potrebbero ad oggi giocare lo spareggio solo con chi fosse al massimo a 31.